Tempo di primi bilanci a Palazzo d'Orlean, da dove si annuncia un tavolo a cadenza mensile per la verifica dell'attuazione del programma di governo. Nel corso di un vertice è durato diverse ore, attenzioni puntate sui primi 100 giorni di attività della Giunta regionale e in particolare sulla relazione del Presidente Renato Schifani, ma non solo. All'appuntamento hanno partecipato i responsabili isolani dei partiti e i capigruppo l'Assemblea regionale delle forze di maggioranza. Piena condivisione della relazione, si legge in una nota della Regione. Insomma, maggioranza coesa attorno a Schifani. Tra i temi trattati, la vicenda dei precari Covid. Non sono emerse posizioni discordanti sul principio che al personale che ha prestato servizio durante la pandemia verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo in occasione delle assunzioni presso le aziende sanitarie e ospedaliere nel pieno rispetto delle norme costituzionali che prevedono l'accesso nella pubblica amministrazione tramite concorso pubblico. Si è parlato anche della 19, l'autostrada Palermo-Catania. Gli alleati di governo hanno proposto di chiedere al Governo nazionale la nomina di un commissario straordinario per velocizzare i lavori di manutenzione. Tutti concordi sull'accelerazione delle procedure per la realizzazione dei termovalorizzatori nell'isola e sulla nomina di un commissario straordinario per l'emergenza rifiuti. In tema di rapporti con lo Stato, chiesta l'attivazione di uno specifico tavolo di lavoro al Ministero dell'Economia e delle Finanze che possa portare, in tempi rapidi, all'incremento della capacità di assunzioni per il personale regionale. Altra richiesta da avanzare al Governo nazionale, la possibilità di utilizzare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la ristrutturazione degli immobili degli istituti autonomi case popolari e per la costruzione di alloggi popolari di edilizia residenziale.